Fuga di ferragosto per gli isernini diretti al mare o nelle tradizionali località montane, come per esempio la supergettonata Staffoli, dove come ogni anno, il 15 d'agosto, c'è la più alta concentrazione di turisti e visitatori della nostra regione. Intanto Isernia è invasa dai turisti che devono fare i conti con le tradizionali carenze e i problemi di sempre. Problemi sottolineati dalla protesta del Comitato Pre-Stories davanti al Museo di Santa Maria delle Monache, tenuto chiuso dalla sovrintendenza nel giorno di ferragosto, con decine di turisti fermi davanti all'ingresso sbarrato. Ci sono dei lavori in corso, questa è la motivazione ufficiale, ma c'è chi fa sentire la sua voce. Santa Maria delle Monache, decine di turisti che stanno qui e non possono entrare, Emilio Izzo fa la sua protesta, che non è una protesta qualunque nel giorno di ferragosto, è una protesta che le ha anche costata in termini di sacrificio. Perché questa manifestazione, Izzo? Intanto perché con me ci sono diversi cittadini e questa è la dimostrazione che in un giorno così importante ci si tiene alla cultura. Per dire ancora una volta che la classe politica di questa regione e la classe dirigente di questa regione in altre realtà non farebbero nemmeno i presidenti di un condominio di due case. Sono il peggio che a noi ci poteva capitare. Sono sei anni che questa struttura, Monumento Nazionale, è chiusa in dispregio di qualsiasi logica di cultura. La verità è che tutti si riempiono la bocca di cultura ma nessuno dimostra nei fatti di averla a cuore. Impossibile un cartello di cantiere che compare dopo sei anni solo perché c'è una protesta, un dentino che viene esposto il giorno prima solo perché si sa che forse arriveranno i media a riprenderlo. Non è possibile i musei provinciali che chiudono perché la regione dice che non mette i fonti quest'anno. Siamo veramente all'anno zero. Discorso simile per il Museo del Paleolitico, chiuso però inspiegabilmente solo alla stampa a cui è stato proibito, chissà perché, l'ingresso da parte della sovrintendenza, nonostante la presenza di tanti turisti che avrebbero potuto far sentire la loro voce. Al contrario funziona invece alla perfezione il sistema di ospitalità organizzato dal Comune di Sernia e dai volontari dell'ISARC per la visita dei sotterranei della cattedrale e del Museo Civico. Sotterranei della cattedrale di Sernia, uno dei posti più affascinanti da visitare nel capoluogo Pentro. Queste sono le basi del tempio prima Sannita, poi Romano e sopra questo c'è stata la costruzione della cattedrale. Dei sotterranei che raccontano delle storie incredibili. Andrea Zullo di ISARC. Diciamo che le conoscenze storiche portano a un complesso abitativo intorno al 350 a.C. Poi cosa accade? Alla fine delle guerre sannite i romani strappano questo territorio ai sanniti e poi edificano una città romana proprio a coronare quel loro successo militare. Poi arrivano i cristiani e ci fanno la chiesa. Poi come tanti templi pagani in tutta la romanità vengono costruite su setti pagani, su templi pagani vengono costruite chiese cristiane. Infatti qui noi troviamo gli lievi archeologici importanti che ci testimoniano dei setti archeologici paleocristiani e poi cristiani.